Buongiorno 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 Aprile con la subassio Epic Mountain Bike Ovviamente Cinculace fra favo Vi ricordo Di partenza ma ovviamente Non andremo ad andare Se siamo in ritardo Sempre dunque accolto Il Mountain Bike Tour Eccoci siamo in meglio Per cui Cominciamo E' un po' Sì C'è roba buona qua Sì E' un po' Sì E' un po' percorso in uno, ma soprattutto ricordiamo che avremo altre due guiglie mister Peppe Tella, 97 anni con più e se no inizia a riscaldare il sole l'arrivo, l'arrivo di un cuore ovviamente, la prova sotto e fuoco la piazza di Tredi, noi vi ricordiamo soprattutto, il nome è che la giocattistica di un caro nata nel 2016 il 45 km sarà ovviamente accompagnato da soli bestonci e andremo così, ricordiamo che avremo uno punto e andremo andando a capire dove con una bellissima scuola che si è arrivata proprio in questa edizione il bus però di Monta Mike dove per chi desidera, per chi muore potrà fermarsi e saltare avrete il trofeo Memorial Chioccioni la copiata diciamo, però è ben riuscita sono le ore 8.58, tra poco tra i amici andremo ovviamente a salutare, notare con le telecamera smart con... salve, come va? vedete che ci vede la futa città ce l'ho anche sulle spalle, no? ehm sento però che da San Pietrino abbinino a Trevi è una cosa bellissima vuoi mettere Trevi con Cesena? ehm no eh, ho con la tappa del Giro d'Italia? no no, meglio da cui sto Trevi mille volte, guarda quindi l'attività come va? bene bene l'attività tutto bene l'ho saputo lanciare dai più o meno, poi con la mia chiacchiera insomma ci metto poco no 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 in memorial a Chioccioni la strada cap numero 19 6, 5, 4, 3, 2, 1 e lo viede la Gria Pasta e la prima partenza di questa edizione la sesta di tutti e tre di Mutant Bite 2019 la sesta del Giro d'Italia il cartellino per quanto riguarda il titolo nazionale escluso il mistico Wismo ma soprattutto avrete anche la prova ehm la prova di potenza e le grandi finali con il Matta va da trovare soprattutto ma soprattutto da il Matta Bike un saluto alle passaggi di Fortunato Badiani non è una... non è una gara ma... xD xD Pronti per cogliere fra І a Bocco la seconda partenza li vediamo già pronti ma soprattutto vi vediamo ancora il passaggio per i biker della prima griglia con la pasta che stanno completando il loro passaggio qui, il secondo della piazza Galilei Mitrei, lo ricordo Piazza Manzini vi accoglierà dal vostro ritorno con i prodotti tipici locali, perché non sono scolte, scolzolismo scritti quest'oggi lo ranno ovviamente, lo ricordo poi premiati anche e delle varie gran fuori che si possono ovviamente partecipare, qui a Trevi non c'è una pasta a farli ma c'è una specialità locale, le varie specialità locali, offerte in piazza, quindi con i ticket potete scegliere fra il Zeno fra il riso, lo Zafferano, fra il Tartuco, via dicendo, Sandro aspettiamo? la moto, quindi siamo, 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 siamo siamo, siamo siamo con tre due, uno e andiamo con la seconda partenza, la ultima che soggi di Grusso e travi Monta Pai 2019 un po' al numero ma soprattutto con divertimento a tutti e andiamo così sul percorso con l'apporto quindi ci tiriamo e da lì grazie grazie per l'apporto per l'apporto numero uno oh 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 Grazie a tutti.